Asia Chiri Ciao Asia Ciao a tutti Allora, presentati, di dove sei, quanti anni hai, come mai sei qua? Allora, ciao a tutti, io sono Asia Chiri, ho 18 anni e vengo da Verona Sono qua grazie a una persona soprattutto e la mia canzone si intitola Dal mio cuore al tuo è un inedito, scritto da questa pianista che ringrazio molto, Faranak e niente artista americana artista americana e quindi salutiamo anche Stefano Piavani Stefano, esatto, grazie a lui accompagnata da lui, eccetera titolo del brano? Dal mio cuore al tuo Asia Chiri Dal mio cuore al tuo ti dono il mio amore forte e puro abbiamo acceso una fiamma che durerà eternamente la tua melodia così dolce mi tocca ogni val come una poesia come una poesia tu completi la mia lima sei la mia lima interrotta dal mio cuore al tuo ti dono il mio amore forte e puro abbiamo acceso una fiamma che durerà in eterno dal mio cuore al tuo è un amore forte e puro abbiamo acceso una m Темna Azzurra e La tua melodia Così dolce, mi tocca ogni volta Come una poesia, tu completi la mia rima Sei la mia mente rotta, dal mio cuore al tuo Ti dono il mio, amore forte e puro Abbiamo acceso una fiamma che durerà in te Non dal mio cuore al tuo Ti dono il mio, amore forte e puro Abbiamo acceso una fiamma che durerà in te Asia, Asiakiri Grazie